Quando devo definire l'eleganza italiana con una parola, solo con una parola, per me questa parola è emozione, è l'emozione che si prova davanti a un quadro di Leonardo, o l'emozione alla fine di un bel film di Umberto Lucio, o quella che si prova guardando un bel panorama della collina toscana. Vogliamo fare del brand Lancia un brand credibile, un brand rispettato nel mercato premium europeo, vogliamo che la gente desideri guidare, desideri possedere una Lancia. Ci ispiriamo molto alla bellissima storia di Lancia, che è una storia che dura da più di un secolo, ma vogliamo reinterpretarla sempre in una forma più moderna e innovativa. Questo è per noi il rinascimento di Lancia. Ci ispiriamo ad alcuni dei territori in cui essere italiano rappresenta davvero un grande valore, quindi architettura, design e fashion, e allo stile di vita ovviamente, ma anche ad alcuni elementi iconici di design riconoscibili nel tempo, per esempio i fari posteriori di una strada. Di un punto di vista del design, la rinascenza di Lancia comincia prima prima di tutto in sua storia, in sua carità, in sue valori. C'è per cui noi, designer, abbiamo deciso e abbiamo concentrato su l'utilizzazione di forme essenziali, di linee pure e di elementi ecliptiche. Le linee di tensione e le linee di forza sono riconoscibili e generano un volume armonio, sculturale, per definire un langage pur, essenzial, elegante, italieno e unico. Siamo partiti a disegnare tutte le vetture della nostra gamma, tutte insieme, anche quelle che arriveranno più avanti, proprio perché vogliamo che questo linguaggio di design, così radicale, così moderno, sia applicato in modo molto consistente ed omogeneo. Esattamente quello che vogliamo fare. Il balanzo verde tra l'heritaggio e il futuro. Per mantenere l'heritaggio, ma, di nuovo, guardiamo il futuro. Ci piace definire Lancia un marchio progressive classic, classic perché molto legato alla sua splendida storia lunga più di un secolo, ma progressi, va anche di più, perché guardiamo al futuro con grande ambizione. Siamo innamorati della storia di Lancia. Sentiamo molto forte l'energia di tanti appassionati, dei club, dei clienti di tutta nuova. Ne siamo orgogliosi e ne sentiamo forte la responsabilità, ma allo stesso tempo vogliamo sorprendere tutti. stiamo disegnando le nostre vetture con la voglia di sorprendere, di emozionare e di far innamorare la gente. Noi abbiamo il più grande rispetto per la nostra storia. Il nostro heritaggio s'attuale nell'aventura, ma il contrario è anche vero. Il nostro avventura riflette la nostra storia, il nostro heritaggio. Il nostro obiettivo è di creare delle caratteristiche che sono l'espressione ultime di un design contemporaneo e moderno, ma che, allo stesso tempo, sono senza tempo, o più o meno delà del tempo. Ripartiamo da un nuovo logo, è un logo in cui si ritrovano tutti gli elementi storici del logo del 1957, quindi lo scudo, il volante e la lancia, ma che abbiamo rivisto in una chiave più moderna e preziosa. Per realizzare il nuovo logo Lancia abbiamo fatto una tanta analisi di tutti i nostri loghi storici. Il nostro obiettivo è stato quello di reincarnare l'eredità storica unica del nostro brand, così come la sua sofisticatezza, la nobiltà, l'eleganza, il pregio, ma tutto in una veste più contemporanea. Abbiamo esaminato i nostri loghi storici per evidenziarne gli elementi essenziali. Da un lato abbiamo semplificato sia le linee che le forme e dall'altro abbiamo aggiunto elementi di preziosità. Facciamo il tuo colore. Tutto uno. Tutto uno. Tutto uno. Queste cose qua, allora, insieme vediamo l'albinamento con lei. Secondo me funziona. Abbiamo trattato questo logo come un vero e proprio gioiello in tutto e per tutto, dove elementi di innovazione e tecnologia si mescolano ad elementi di preziosità, come i suoi colori, i materiali, i trattamenti, ma anche un'esecuzione davvero attenta al minimo dettaglio. Abbiamo speso molto tempo insieme a Jean-Pierre e al team di designer per definire che cosa è l'eleganza italiana. La realizzazione di una nuova auto è un processo molto lungo, molto complesso, che avviene per fasi. La prima fase, forse la più importante, è stata quella di trovare la forma perfetta, che è la forma che abbiamo poi realizzato in uno Speedform. Quello che io vorrei realizzare è tenere la forma molto circolare, morbida, sinuosa che vediamo qui sul frontale, ma anche connettere un po' le forme dello Speedform alla parte più attenziale, più attenziale, più attenziale al carattere del nostro prodotto. Quindi vorrei provare ad integrare la forma sinuosa e morbida, che vedo qui come la forma più netta e più geometrica dell'anno. La Speedform è l'expressione style e tecnologica ultima di nostra marca Lancia. è la ricombinazione di suo ADN e di sua evoluzione. È la fusione di superfici che definisce le linee di forza. noi utilizziamo i migliori talenti associati a delle tecnologie di concezione di pointe. In le Speedform, c'è una riferenza clare alle forme primi, elegante e pure, che fanno parte di nostro ADN. Ci siamo ispirati al mondo dell'architettura e alla tradizione del design italiano. E forse la purezza dei due cerchi di Carlo Scarpa ne rappresentano la sintesi migliore. Qualità, cura del dettaglio e forme semplici, ma sempre cariche di significato. Abbiamo voluto creare un contatto continuo tra passato e futuro, un bilanciamento perfetto tra l'eleganza e la purezza da un lato e la grinta e il carattere dall'altro. Penso per esempio al calice della Delta, che trova una sua nuova forma nella luce del frontale, oppure ai fari rotondi della Stratos, che rivivono nel posteriore, o al profilo sinuoso, che ricorda le linee dell'Aurelia. Linee pure e radicale. Pura, c'è la sensazione del nuovo design dell'Anxia. La sintesi di due mots, pure e radicale, che interpreta bene la dualità dell'Anxia nella sua storia e che farà nourrire il suo futuro design. Ma Pura è anche il grit che è in suo ADN e che ha sempre stato synonimo di performance all'interno della sua storia incredibile, della sua tradizione di Raleigh di Tammo. Nasce così Lancia Pura Zero, che è il manifesto di design su cui costruiremo la gamma futura di Lancia. Poche linee, quelle che servono sufficienti, un po' come lo stile italiano si insegna. Il rinascimento di Lancia passa attraverso la presentazione di questo bellissimo Speedform e la presentazione del nostro nuovo logo. Il design degli interni richiama un forte collegamento con il design degli esterni. Abbiamo lavorato per coerenza con le geometrie dello Speedform e quindi abbiamo creato degli oggetti che fossero iconici, ma che avessero una forte identità e forte omogeneità con lo Speedform degli esterni. Quando abbiamo cominciato a lavorare sugli interni delle nuove Lancia, ci siamo chiesti quale tipo di sensazione volevamo per queste vetture. Quello che ci è apparso subito evidente è che volevamo ricreare un effetto di home feeling. Ci siamo quindi ispirati alla tradizione delle case di design italiano. L'obiettivo era quello di creare una zona di comfort, una zona di pace, quello che noi chiamiamo Wellness Refuge, uno spazio dove stare bene non solamente quando si guida la vettura, ma vivendola in ogni momento. Abbiamo tre pilastri importanti. L'ispirazione dal mondo dell'Italian Furniture, dove troviamo la ricerca dei materiali, i colori, la qualità e la cura dei dettagli, la sensazione piacevole di accoglienza all'interno dell'abitacolo, o la sensazione di sentirsi a casa, ed infine il meglio della tecnologia, che deve però essere sempre semplice ed intuitiva. Gli interni che ci immaginiamo sono uno spazio più simile al salotto di casa che agli interni di un'auto. E poi c'è la sostenibilità. Almeno il 50% di tutto quello che si può toccare all'interno di un'auto sarà ecosostenibile. Il nostro sogno è creare un linguaggio di design senza tempo, un linguaggio che possa durare per almeno altri 100 anni. C'è un linguaggio che può ricordare. Trazione del mondo dell'Alberto di un'auto è un linguaggio di un'auto, ed è un linguaggio che si può toccare all'interno di un'auto. ma c'è un linguaggio di un'auto. Grazie a tutti.